bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi voglio ricominciare una sezione molto importante del mio canale quella dedicata ai video editati ragazzi era veramente tanto che non ne facevo uno sono molto contento di riuscire finalmente a registrarne un altro e oggi ragazzi come avete già visto sicuramente nel titolo del video voglio parlarvi di una roba che non c'entra niente con i videogiochi oggi ragazzi vedremo la classifica delle top 10 auto più veloci attualmente in circolazione ragazzi voglio ricordarvi semplicemente una cosa le auto che andremo a vedere fra poco ragazzi sono state preparate quindi sono tutte macchine che passano i 400 chilometri orari non sono ovviamente macchine di serie come vi ho già detto voglio solo anticiparvi che la più rapida ha una velocità realmente realmente spropositata quindi boom guardiamo subito la prima delle 10 macchine più veloci in assoluto si chiama mailing hellcat il diavolo gatto velocità massima ragazzi e siamo alla decima posizione 440 chilometri orari una roba incredibile creata dall'ingegnere melling veramente veramente molto flippato con il pallino della velocità dove aveva come scopo questa macchina quella di diventare l'auto omologata più veloce del mondo monta un motore da 6 litri v10 e genera una cosa come 1175 cavalli incredibile ragazzi dovrebbero averne prodotte non più di 30 esemplari non sappiamo chi le abbia comprate io di certo non ce l'ho andando avanti ragazzi uela uela subito subito cattiva così ragazzi nona posizione mallet holtec corvette c5 come possiamo già vedere infatti da logo lì sul muso una super corvette addirittura senza il cofano in quanto il motore probabilmente sfogava troppo caldo sfogava non potevano neanche metterglielo velocità massima ragazzi non a posizione 442,5 chilometri orari stata costruita e concepita tra il 2003 e il 2005 praticamente è una macchina basata sul modello della corvette c5 ovviamente modificato come già dicevo prima ha un motore da 6.300 centimetri cubici talmente potente che sprigiona secca secca una potenza da 1000 cavalli incredibile ragazzi anche la ripresa da 0 a 100 in 1,4 secondi oltre i 442 chilometri orari andiamo subito ops la ops la vediamo perché non si gira più e hop andiamo subito ragazzi a vedere l'ottava posizione ci ricorda già qualche cosa dalla forma s sc tua tara ragazzi velocità massima 443 chilometri orari quindi giusto quel mezzo chilometro in più che lo senti quando sei su a 440 che dici vabbè magari prendo quella lì che sai va a 443 e mezzo non si sa è ovviamente presentata al pubblico come una supercar quindi una macchina probabilmente omologabile a un motore da quasi 7 litri un vuoto per la precisione sprigiona 1350 cavalli di potenza ragazzi anche questa macchina proprio t'attaca così al sedile perché fa da 0 a 100 in 2,3 secondi e addirittura viene fornita i nuovi optional per gli acquirenti viene fornita con la possibilità di avere cambio automatico o cambio manuale dando avanti così ma guarda che meraviglia ragazzi ci ricorda una vecchia ferrari invece è una norwood p4 288 gto soprannominata anche cavallo volante velocità massima ragazzi 443.21 km orari ovviamente si tratta di una ferrari molto molto potente e come potete vedere ragazzi richiama parecchio il vintage sembra una di quelle ferrari anni 70 anni 80 che tanto tanto ci sono piaciute non c'è assolutamente una parola migliore per definire questa ferrari che un modello unico possiamo anche chiamarla ferrari 288 gto monta un bolide che spinge con un vuoto creato dalla general motors ragazzi ed è dotato di due turbine da 800 metri boh m non so cosa vuol dire millimetri minimi non lo so l'uno con una bestia una rama che proprio noi ci possiamo immaginare non è mai stata portata ragazzi sulle piste ufficiali in realtà il record di 443 km e mezzo ci viene detto venne registrato sul lago salato di Bonville ragazzi c'è proprio un lago secco enorme dove si fanno le prove per vedere i veicoli più veloci sulla terra ragazzi Bonville 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 andate a vedere un po' di informazioni che è veramente molto interessante andiamo avanti ragazzi bellissima Auster Racing TVR già ce lo potevamo immaginare dal cofano Phoenix Project ragazzi incredibile anche questo una roba proprio da far accaponare i capelli 444 km orari ritorna per noi il nome TVR Cerbera e chi conosce Gran Turismo 2 vada a dargli un'occhiatina è un'auto già di base veramente veramente molto molto ad alte prestazioni poi essendo stata affidata alla scuderia Auster Racing da qui infatti prende il nome la macchina il risultato è qualcosa di esagerato hanno completamente smantellato il motore l'hanno rifatto hanno aumentato la cilindrata di 6 litri ed è stato aggiunto un nuovo basametro non ho idea di che cosa sia e delle nuove teste assolutamente sovralimentata e dotata di protossito d'azoto il nostro per proprio essere chiari chiari avanti ancora eccola qua ragazzi RSC che sta per Rotary Supercars Predator GT RSR anche questa ragazzi numeri da capogiro velocità massima 455,43 km orari ci sono voluti anni per poter presentare questa macchina ragazzi sembrava quasi una leggenda le voci vociferavano e invece ragazzi è arrivata Predator GT RSR nasce nelle officine di Francoforte sul meno ha un'accelerazione ragazzi che da 0 a 100 ti porta in 3 secondi una roba proprio ti fa brusare i peli ti fa brusare la vettura ha una cilindrata la vettura la macchina ha una cilindrata di 2600 cm cubici è una potenza massima e qua gira gira le mani gira di qua e gira di qua 1200 cm cubici quarta posizione ragazzi siamo quasi sul podio la vedete di già ragazzi la potete già quasi riconoscere la linea è inconfondibile è inconfondibile PPR Performance Power Racing una Ford Bad GT ragazzi la Ford ovviamente non si smentisce mai con le linee meravigliose delle sue auto più super lusso velocità massima 455,8 km orari ragazzi questa meraviglia è stata possibile grazie all'incontro di due scuderie la Performance Power Racing e la scuderia della Ford GT nel 2006 è stato presentato questo modello ed è anche entrata nel Guinness dei primati come auto più veloce con partenza da ferma ragazzi veramente una macchina che ti fa sbrillonare la pelle in una maniera incredibile siamo nel podio ragazzi siamo nel podio ma prima di andare nel podio se a te sta piacendo questo nuovo video che non c'entra con i videogiochi e che tratta di questi argomenti hot lascia un bel pollicione in su mi raccomando voglio vedere un pochettino che cosa mi sapete regalare nei video editati e non nelle live ragazzi come vi stavo preannunciando il podio alla terza posizione sembra la macchina di Batman ha probabilmente le stesse armi della macchina di Batman ma è un Audi R0 ragazzi velocità massima 460,2 chilometri orari ragazzi un bolide anche questo nato dall'ingegnere Frank Levivier non sappiamo che sia ma è veramente un genio per aver fatto una roba del genere ragazzi vettura elettrica ragazzi 4 motori elettrici per 1091 cavalli ragazzi 2000 newton per metro quadrato di coppia massima e qua l'oxyuder ricorda le nozioni di fisica questi sono i dati che riconfermano la R0 come una delle supercar più veloci del mondo ragazzi 460 e oltre chilometri orari una roba che tu puoi andare anche se arriva l'autovelox proprio non ti vede neanche non ti vede avanti ragazzi medaglia d'argento ragazzi guardate sembra già una macchina del futuro meravigliosa la doppia coda dietro probabilmente rubacchiata a qualche areoplano stiamo parlando di una wally larson l e1 ground fighter la combattente della terra ragazzi velocità massima non ve lo dico non ve lo dico ragazzi non ve lo dico 490 chilometri orari ragazzi una roba che sembra una delle supercar quella di cassa sembra una roba uscita veramente dalla pixar da un cartone disney invece ragazzi non è così è realtà ragazzi era il 2001 era l'anno 2001 dove hanno progettato partorito una vettura da 2000 cavalli ragazzi 2000 cavalli non ci stanno dentro neanche una stalla vera 2000 cavalli ragazzi 500 quasi i chilometri orari 490 per la precisione da 0 a 100 in 2 virgola 2 secondi manco il tempo di cagarti addosso che sei già a 100 quindi ragazzi detto tutto questo è giunto il momento di arrivare alla numero 1 the number 1 la top ragazzi la top classifica la macchina attualmente aggiornato al 2017 più veloce del mondo ragazzi boom mamma mia ragazzi guardate che bolide sembra anche questa una macchina di need for speed ragazzi invece è realtà si chiama mosler mt900 gtr xx yad the land shark ragazzi lo squalo della terra meravigliosa una linea allucinante una aerodinamica da paura ragazzi e brucia se proprio vogliamo stare in tema con le fiammelle la precedente con una velocità massima attestata 491 chilometri orari ragazzi sopra tutti i record sopra qualsiasi immaginazione collettiva se vuoi andare così veloce caro mio te che da prendere l'aeroplano devi prendere l'aereo ragazzi perché più veloce di così non si può ragazzi un motore v8 a 90 gradi una potenza ragazzi di 2500 cavalli una meraviglia dell'ingegneria robotica e manodopera non so neanche se si dice così creata apposta per i veri folli ragazzi da 0 a 100 in 3 secondi bene ragazzi io spero che questo mio video fatto dopo tanto tempo che ero fermo con i video editati vi sia piaciuto se volete vedere altre top 10 top 5 top 35 mila voi fatemelo sapere qua sotto nei commenti e lasciate boom un super super like noi ci vediamo alla prossima video ciao